Per completare il modulo ho bisogno di alcune informazioni. Sono solo poche domande, non ci vorrà molto. Per lei va bene? D'accordo. È doloroso? Questa villa è in attività da molto prima che io e lei nascessimo. C'è qualche rischio di un danno cerebrale? Lei ha firmato un contratto. E come sa che non sono già arrivati? Signori, per cortesia, raggiungete le vostre stanze. Non possono più restare. Potremmo essere a centinaia di chilometri dal primo telefono. Mori! C'è qualche problema? Non lo voglio più fare. Non lo voglio più fare.